Buongiorno a tutti, questa è la conferenza stampa di Fabio Lucioni, è a vostra disposizione iniziamo con la prima domanda di Tonio De Giorgi del nuovo quotidiano di Puglia. Ciao Fabio, partiamo dall'ultima partita, 4 goli fatti, 0 subiti, che sensazioni ha lasciato la partita di Reggio in chiave futura? Io credo che ci debba dare quella consapevolezza che siamo una squadra che nel corso del campionato è cresciuta notevolmente sotto l'aspetto della compattezza, anche dell'interpretazione delle gare e ci deve dare quella forza di continuare perché l'obiettivo è sicuramente ancora molto lontano ma credo che questa squadra abbia dei valori assoluti sia sotto il punto di vista tecnico che sotto il punto di vista mentale per disputare un finale di campionato all'altezza dei programmi che sono stati fatti. Ciao Fabio, ormai sei uno dei veterani di questa squadra, 90 partite con il Lecce ce n'è qualcuna che ricordi di più in maniera più gioiosa? Un'altra domanda è questa, il Chievo è una squadra che ti porta bene, l'hai affrontata con la maglia della Reggina e con la maglia del Benevento oltre che con quella del Lecce nella gara d'andata tutte e tre le volte l'hai battuta e quando l'hai affrontata in Coppa Italia nel 2012-2013 hai anche segnato il gol decisivo quando giocavi con la maglia dei calabresi ci vuoi raccontare un po' quel gol e che sensazioni ti ha dato visto che ha portato poi la tua squadra a giocare contro il Milan nel turno successivo? Guarda, ti rispondo innanzitutto alla prima domanda credo che la partita più bella con la maglia del Lecce sia stata la promozione contro lo Spezia la partita contro lo Spezia che poi ha sancito la promozione in Serie A credo che quella sia stata la più bella ma la più emozionante è stata rientrare in un campo di Serie A contro la Samp Almarassi e poi sì, contro il Chievo io quella partita segnai ma io credo che la cosa più importante sia il risultato sarò retorico, sarò scontato ma è il risultato finale perché in queste prime 26 partite, 27 quando ne abbiamo disputate credo che ci hanno fatto capire che se togliamo qualcosa dell'io e mettiamo davanti il noi possiamo scalare tutte le montagne possibili di questo campionato quindi il risultato finale credo che sia la cosa più importante che questa squadra debba ricercare Carmen Tommasi di Telerama, prego Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti io volevo sapere se lei si sente uno dei leader di questa squadra e cosa crede che le altre squadre che stanno lottando per la promozione diretta possano invidiare a questo Lecce? Guarda, io credo di essere uno che dà il 100% dal lunedì alla domenica senza risparmiarsi mai e cercare sempre di alzare quella benedetta asticella di cui tutti parlano cerco di farlo in campo, in allenamento e con l'esperienza che ho accumulato negli anni cerco di trasmetterla anche con qualche parola ai compagni di squadra, soprattutto ai più giovani questo campionato ci sta dicendo che lottare al vertice è difficile perché abbiamo visto, tranne l'Empoli che è saldamente al comando abbiamo visto praticamente un susseguirsi di squadre che stanno rincorrendo quel secondo posto sicuramente la classifica è molto corta con due risultati da tre punti si può raggiungere facilmente il secondo posto ma non dimentichiamoci di guardare dietro e vedere tutte le altre che vogliono rincorrere un posto nei playoff sono talmente pochi punti che ci dividono tra l'essere dentro e fuori dalla zona playoff e dal stare in paradiso o disputare playoff che oggi dire c'è una squadra favorita credo che non sia possibile poi se guardiamo gli organici il Monza su tutti è quella che può impensierire più di tutte però questo è un campionato che ci sta dimostrando che in qualsiasi campo si vada a giocare è una battaglia, una guerra è una finale e se noi interpretiamo queste 11 finali che ci mancano come abbiamo interpretato quella di Reggio quella di domenica con la Reggiana credo che possiamo dire la nostra è normale che in questo momento siamo un passo indietro rispetto agli altri perché abbiamo avuto delle difficoltà nel nostro cammino ma difficoltà che ci hanno fatto crescere ci hanno fatto compattare nello spogliatoio perché reputo che poi lo spogliatoio sia il gruppo sia quello che ti dà la marcia in più per arrivare agli obiettivi prefissati Elio Donno del Corriere dello Sport prego Elio Ciao Fabio tu nonostante gli anni che passano sei un po' lo stacanovista di questa squadra domenica scorsa assente il capitale ha avuto il piacere di guidare dal capitano il legge verso la partita che speriamo sia la discorsa definitiva ecco qual è il segreto hai già accennato adesso con gli allenamenti eccetera qual è il segreto di questa tua eterna giovinezza cosa dici ai compagni in particolare quando devi scuotere nei momenti critici guarda io c'è stato secondo me uno snodo nella mia carriera che mi ha fatto capire che non era solo un'integrità fisica a portarti alla longevità ma una forza mentale che ti dà poi la spinta in più e questo equilibrio mi ha consentito di innanzitutto allenarmi sempre al 100% ma non al 100% significa sempre sempre al massimo sicuramente ma c'è sempre la giornata storta c'è sempre la giornata che uno si sente più stanco si sente magari ha avuto una problematica che ha dormito poco perché i bambini di notte ti fanno dormire poco però al 100% significa che oggi se ho il solo 40% delle energie io do il 100% di quel 40% e allora alzo la sticella l'ho capito l'anno che ho avuto allenatore Baroni che mi ha trasmesso questo questo concetto perché lui veniva dalla scuola Juve se vi ricordate bene la BBC della Juve Bonucci Barzagli e Chiellini loro hanno fatto 10 anni di vittorie e allora io mi domandavo ma come fanno sempre a stare bene fisicamente beh sicuramente un calo fisico l'avranno avuto anche loro sicuramente hanno degli degli strumenti per star bene fisicamente al 100% perché stanno in un top club però sicuramente l'aspetto mentale è quello che influisce più di tutti e qui mi rifaccio al discorso della tua seconda domanda cerco di trasmettere quella che è l'aspetto mentale che sposta gli equilibri delle gare ma sposta soprattutto gli equilibri degli allenamenti perché se stai sempre concentrato al 100% innalzi il livello dell'allenamento innalzi soprattutto in un gruppo come il nostro che ha della concorrenza veramente importante perché in tutto il contesto squadra si hanno 25 titolari non 11 e quindi se non stai sempre al 100% a livello mentale fai fatica Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport prego Giuseppe Fabio buongiorno Massimo Coda segna il rigore a a a a Reggio e viene a dirti Fabio mi raccomando ora non mettiamoci in difesa come se tu fossi il riferimento anche nel trasmettere questo messaggio forte che il mister sta dicendo perché inconsapevolmente vi siete ritrovati a gestire un vantaggio esiguo e magari rischiando poi quelle rimonte che avete rischiato e questa anche una una svolta cioè l'attaccante che fa il gol e viene a dirti Fabio ora non ci mettiamo dietro continuiamo ad attaccare è importante al di là dei due dei due turni senza gol e la possibilità di fare il terzo come non è mai successo in questo campionato lì ci può essere la molla che cambia il corso di questo campionato io credo che nel corso dei campionati ci siano delle partite crocevia no e delle partite che ti fanno capire veramente cosa sei e cosa puoi dire in eh alla lunga e io credo che nelle parole di Massimo eh ci fossero racchiuse tutti questi tutti questi momenti momenti che che ti dicono adesso abbiamo acquisito una mentalità non facciamo l'errore che abbiamo fatto magari a Pescara e ci siamo fatti rimontare all'ultimo secondo eh non facciamo l'errore di altre gare che ci hanno rimontato faccio ad esempio Brescia se poi l'episodio possiamo parlare nel fuorigioco eccetera eccetera ma siamo cresciuti credo che poi le sconfitte i pareggi i gol all'ultimo secondo ti facciano crescere ti facciano capire che se hai acquisito una mentalità devi perseguirla devi eh rafforzarla devi seguire quelle che sono le idee dell'allenatore e l'allenatore quando dice di eh alimentare la catena è perché crede in quei concetti quando dice che li stiamo schiacciando è il momento perché crede in quei concetti e quindi se lui crede fortemente in questi concetti noi dobbiamo seguirlo perché poi abbiamo visto che i risultati ci portano a gioire poi tutti insieme e quindi credo che la maturità di una squadra sia anche questa no arrivare a credere in dei concetti che magari prima ti sembravano poco influenti perché dici sai adesso sto 1-0 giornata storta la devo portare a casa in maniera sporca poi ti pareggiano al 93esimo come a Pescara invece no devi continuare a martellare devi continuare a tenere alta quella concentrazione di cui parlavo prima e qui mi riferisco all'aspetto mentale che Massimo ha voluto trasmettere a me e poi a tutta la squadra grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti